Mi stai portando sfiga Non ci credo Abbiamo trovato una speciale Oggi Robby voglio proporti una challenge fantastica su StumbleGuys Sono tutto orecchi Dani Ok però ti devo vedere più carico Sono tutto orecchi Dani Io lo so che le challenge che tu mi proponi Alla fine sono io che provo a fare cose assurde che ti vengono in testa Beh vabbè questo è il canale di Dani e Robby Gaming E se non siete ancora iscritti mi raccomando Vi sfido a farlo con il gomito del braccio Se dovete cliccare su iscriviti con il gomito Perché detto del braccio tu hai gomiti anche da altre parti? Vabbè Hai il gomito della schiena? Hai il gomito del... Sì va bene Allora Robby la sfida di oggi sarà Non toccare i colori della bandiera italiana Cioè sai almeno quali sono i colori della bandiera dell'Italia? Sono il magenta Il... Il... Il arancione E il nero sicuramente Sì bene Robby Non ne hai indovinato neanche uno Ma ti pare che non so quali sono i colori della bandiera italiana? Il fantastico tricolore verde, bianco e rosso Sì il problema è che sono tre colori che tipo stanno ovunque in StumbleGuys Spero B Se non riuscirai a superare questa challenge Sarete voi a decidere cosa dovrà fare Robby nel prossimo video Beh scusami allora io la prossima volta ti dico Se tu non smetti di respirare per un'ora Allora io mi devi dare duemila euro Certo Robby Mi fai challenge impossibili scusami Non mi interessa guarda qui ora Ok un solo gettone direi che questi giri io non li voglio più fare Iniziamo a giocare e sarai tu il primo Ah quindi anche tu devi provarci Certo Robby Però se tu perdi succede qualcosa Se io perdo non succede nulla Ma scusa che significa questo? Non mi va bene Non mi va bene Sei fortunato perché questo percorso non ha Ah aspetta sì 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 ho visto c'è Ha il verde Robby Il verde ma che dici? Sì Robby ho visto il verde Hai visto il rosso del trampolino Ah ok allora può essere che ci sia sia rosso che verde Stai bene attento Ma dove hai visto il verde scusami? Eh Robby proprio dietro Ah quel gonfiabile che si muove Ma quale gonfiabile? Dani ma ragazzi Dani non vede neanche bene i colori Cioè ma davvero fai Tu stai attento a non perdere Sì sì tranquilla tanto questa mappa adesso è semplice guarda Ok ok Non c'è verde da nessuna parte Ma dove l'hai visto il verde? C'è solamente qui adesso il rosso e non devo toccarlo Ah attenzione Ok non l'ho toccato Bravissimo Robby Non l'ho toccato ragazzi Ok ma sei soltanto al primo round Secondo voi Robby riuscirà in questa challenge pazzesca Dai Dani non so cosa ho combinato Ragazzi si è bloccato il gioco Vabbè vabbè io però mi sono qualificato Va bene Che cosa è successo? Fai fitta di niente fai fitta di niente Dani Tanto non possiamo farci nulla Se vuoi Ma io cioè teoricamente ho toccato adesso il verde sulle piattaforme Però non potevo non toccarlo No vabbè Robby no si è arrivato il traguardo quindi sei giustificato Ok 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 Però ora voglio che ti capita qualcosa di più serio Ecco qui No ma tutti i trampolini È pieno di rossi No tutti i trampolini hanno il rosso Dani Ma 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 come devo fare? Preparatevi a scrivere un commento con qualcosa che deve fare Robby eh Allora no di lato ok Qua ok sono andato di lato Sono andato tantissimo di lato Ok però ora se ti prende è la fine Robby Ok non sono minimamente andato su quella fascia rossa Mamma mia quanto è difficile Qui adesso è rischioso Vai ok non l'ho toccato E questo cos'è viola o rosso? No eh non lo so Robby Io per precauzione non lo tocco e mi qualifico In realtà prima mi sono accorto che anche qui c'è il bianco il bianco Robby vai sono Dani ma sei andato sul bianco Sei andata tu sul bianco Oh oh ma è colpa mia Robby Pensavo che tu non volessi più andare lì A parte che avevo un super vantaggio contro tutti quanti Quindi non ti dovevi preoccupare E poi Dani la bandiera a scacchi Ha il bianco e la bandiera italiana C'ha il bianco di mezzo Ma io non ci ho pensato Vabbè io non ho perso eh No no ragazzi è giustificato Questa volta sono sono seria È stata colpa mia Ma come si fa come si fa ad andare sul bianco? Ma perché il traguardo io vabbè non pensavo Finora sto facendo del mio meglio eh E ho beccato tutti quanti i trampolini con il rosso di mezzo Cioè questa è proprio sfortuna Dani non posso non toccare il rosso Perché diventano rossi i cosi Come faccio? Robby non sono problemi miei Guarda diventa subito Ah ok No Dani ma non posso non toccare il rosso Ma non posso Ma vabbè allora sono costretto a morire Certo scusami non posso vincere e né toccare il rosso Cosa potevo fare? Sapete cosa significa? Robby la prossima volta dovrai fare quello che i nostri amici ci dicono Ma 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 scusami ma è una mappa in cui tutto ti diventa rosso sotto i piedi Lo so era difficilissimo ma infatti in questa challenge ci vuole anche tanta fortuna E ora guarda si è bloccato io non posso più giocarci Ma questo che cos'è? Impossibile connetterse ai server Cioè mi è proprio cacciato non appena ho toccato il Robby ma hai visto qui? Hanno fatto la ruota speciale di ghiaccio Però vabbè non è compresa nella challenge di oggi Ma no Dani fa almeno un giro due giri Fai facciamo 5 giri Ma queste sono tutte le mie gemme Sì sono le gemme che ogni volta ti compri grazie ai miei soldi Mi dice di aspettare Che aspettiamo? Errore Errore Guarda Robby è del sino che non dobbiamo utilizzarle Vabbè proviamo l'ultima volta Robby Vediamo se ci va Ok è andata Ok perché non era il dito del proprietario Esatto Oh no chi è quello? Una normalissima skin di un vichingo Perché è la ruota di ghiaccio quindi ci sono anche le skin Ma dai ma che sfiga Mi stai portando sfiga Non ci credo Abbiamo trovato una speciale Non ci sto a credere Non ci sto a credere Ma sei diventato romano Ragazzi cioè ma quanto sono fortunata Allora sai che ti dico Io ti dico che tu non volevi neanche farla girare quella ruota lì Non volevi neanche farla girare Aia aia mi stai facendo male Io ho detto gira con la ruota E grazie a me ho trovato una speciale Lo so Robby Aia Oh Voi l'avete già trovata La valchiria di ghiaccio È bellissima E ora voglio giocarci Voglio assolutamente giocarci Secondo me mi porterà fortuna Voi ragazzi Iscrivetevi al canale Se siete dei nostri veri fan Proprio in questo momento Vi lascio Tre secondi Uno Due Tre Ci sono due valchirie di ghiaccio In questa partita Non sei unica Mi piace Questo mi vuole Mi vuole fregare Ma io sono più forte Guarda qua Sì sì Proprio fortissima Aspetta Io qui non riesco Sì la valchiria è più forte Che ho mai visto Dani Perché sei la prima Guarda Guarda qui Ok Ci sono Ci sono Oh No 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 Ti ricordo che non devi toccare Né rosso Né verde Né bianco Qui c'è un sacco di verde E non mi sono accorto Se l'hai già toccato prima L'ha toccato prima ragazzi No no ragazzi Voi siete Tip Dani Quella saccionata è rossa Eh non la sto toccando Ok ok Devo solo Avvisarti che quello è verde No qua Impossibile Roby Devi saltare dall'altra parte Ok Diciamo più o meno che ce l'hai fatta Mi ha fatto il cuore raga No ti volevo abbracciare Per buttarti via Ma non ti sei qualificata Perché hai aspettato troppo tempo Su quel tronco Però intanto La valchiria che tu non hai utilizzato Sì però intanto Tu sei scarsa Ci riprovo Io non mi arrendo E questo è perché È il potere dei like Che mi aiuterà Quindi lasciate tantissimi like E guarda qui Roby Loro mi stanno aiutando Perché loro mi vogliano bene Sono dei miei amici Tu invece mi odi Mi porti sfiga Io prima l'ho fatta questa Ma senza toccare il rosso Vediamo se tu ci riesci Che è il tuo belchiria di ghiaccio Non lo so Roby È difficile Ecco sì mi raccomando Ammazzati senza prendere nessun trappolino È un'ottima chance Ma io questa challenge L'avevo lanciata a te Cioè Hai palesemente toccato il rosso Lo hai palesemente toccato Ma per pochissima Roby Si è andata proprio al centro del rosso Tipo ti sei Proprio lì si è andata Scrivete nei commenti Se secondo voi l'ha toccato il rosso Oppure no Vi giuro dovete provare anche voi Questa challenge È impossibile Sì è impossibile che tu sia così Ecco No Qui direi che Aiutami Aiutami In qualche modo Dani ma la tua challenge È andare solo sul rosso Fammi capire Come funziona Sì la mia era andare su tutti i colori dell'Italia La tua invece era non andarci Così proprio Sì sì È la valchiria che è scarsa È la valchiria che è scarsa No sono Sono io che Che mi diretto a farti perdere Perché questo personaggio si chiama Dani Cagnano Di conseguenza Dai È giusto che perda Ma io te l'ho data perché Perché Allora se riesco a qualificarmi Mi devi dare un bacio Va bene Ti stai qualificando Ti stai qualificando Ok chiudi gli occhi Eh Ugo No no Te lo sto per dare Tu mi vuoi dare il bacio Sì sì Te lo sto per dare Guarda Dato Io non ci gioco più No 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 Dai Non hai le labbra come le mani Allora te lo do Sempre che devi fare le cose Io il premio Lo dovevo avere E l'ho avuto Mi diverto tantissimo A fare video con te Robby Sì come no Ci sono delle palle verdi lì eh Sì però Diciamo che sono Se cadi Non puoi non toccare le palle verdi Di conseguenza Fai molta attenzione A non cadere Ok salterò Come una pazza Come un grillo Eh sei per cadere Ecco Te lo volevo dire No 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 I grilli non sono fortissimi No 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 Attenta la palla verde Attenta la palla verde Aiuto 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 Scappa Dani Scappa Dani Ok la missione è quindi Non toccare Non toccare No questa è fucsia È fucsia Sì sì Siamo sicuri ragazzi È rosso o fucsia Ragazzi no è fucsia Cioè io Oh ma che sta facendo questo Vabbè tanto Non c'è proprio il minimo rischio Che tu ti qualifichi Sei troppo scarsa Oh Robby Dai non dire così Guardati Come sei Come fai Adesso a riuscire a qualificarti Perché ora Te lo dimostro io No 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 Sono un sacco di persone No 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 Ecco Ho perso sicuro No 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 Ma che fai Valkyria Scarsità Sì La scarsità Fatta in persona Oh C'è un scritto Questo gioco Mi fa arrabbiare tantissimo Voi non potete capire Ecco Ora Vado nel mondo Delle nevi Ah Robby Se ci fai Anzi sono Guarda Valkyria È Valkyria Lei guardate Ci rinuncio Però Robby Questa challenge Era diretta a te Tu non ci sei riuscito Quindi scrivete nei commenti Cosa dovrò fare Robby La prossima volta Pure Pure Sì E noi ci rivediamo In un prossimo video Ma era impossibile Non toccare il rosso Non capisco Perché devo fare Comunque Le sfide Ecco La cattiveria Stava pure cadendo Ciao Ciao Ciao